eh c'è il volante Gian? eh ho capito, so che non volevo farmi notare mettalo, mettalo qua zoom come? di su, no, non di su così si, di su così guarda con che stile guarda che stile guarda che stile da metà là guarda, guarda che stile Dio secondo te glielo stacca un po' più secondo me lo manda a dar via il culo in malamodo probabil oh niente lo sta spanculando ma vai via via, è troppo piccolo tu troppo piccolo, si è tassi a cazzo sto sono uno degli sbirri e ci tocca il telare tempo zero oh non de morde c'è una voglia di figlia sto ragazzo percadino eh via non posso, non posso, via piccolo non posso fare un pompino sto aspettando cliente la giusta musica di sottofondo un pompino sacrale un pompino sacrale ma lei che ma non è neanche ubriaco è quello il bello ma se andiamo noi se andiamo noi Dio c'è una fidanzata eh ho capito io più o meno e io poi sinceramente un pompino adesso ne ne ho quanto quanto l'ha sfanculato Dio porco è triste è triste è tristissimo adesso gli si fa l'intervista secondo me guarda sta ridendo come un cane to intervista intanto viaggiamo allora uino uino è una puttana proprio aspetta un secondo allora 30 euro tutto eh senti che avevi 30 euro cazzo un pompino 20 un pompino 20 euro porco a dio se sei un care ok cazzo sei ma neanche fossi figa ne ho letto cazzo sei care e lei e lei abbassare la musica già hai detto ma mi sembra tigari eh no eh cosa no fatti per venti evo ma occhio che è caro ecco che dai che vai che non mi piace stare qui che adesso arriva il mio fidanzato il mio fidanzato ma vaffanculo ha detto no ma non ci credo ha detto ah no ci sono le mie nicchia che adesso mi possono prendere però sono un po' più in giù che lavorano dimmi dove eh un po' più in giù un po' più in giù di la di la dove su di la ah si si e 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 un attimo eh dai dai no sei vai che adesso arrivano le spirri che eh niente che se ti ho fatto una sigaretta eh no 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 niente che per la sigaretta no 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 un fumo dai no non hai capito no adesso lui hai fidanzato smetti di lavorare vado a casa ho fidanzato le amiche e gli sbirri tutti qua tutti stasera è bello è già scomparsa di nuovo è già scappata di nuovo ma dove cazzo si nasconde ah boh non so boh fine intervista eeeh